ciao eccoci giunti a l'ultimo video riguardo alle fragranze che do via allora intanto vi racconto questo l'ultimo video che ho fatto che volevo dare via questa meraviglia ma io ci ho fatto un bel pensiero sopra sulle fragranze che potevano fare a meno di me e quindi anche se lo amo anche se lo ritengo un profumo meraviglioso ho fatto una scelta e ho scelto di tenere pochi profumi perché sono solo io che li uso e e quindi ho dovuto fare una scelta l'honey wood di montale è disponibile l'ultimo video che ho fatto c'è stato una persona un uomo che mi ha prenotato la metà dei profumi che avevo fatto vedere in quel video poi improvvisamente io non l'ho più sentito ho cercato di rintracciarlo gli ho chiamato gli ho mandato dei messaggi gli ho chiesto se era sempre d'accordo perché non l'avevo più sentito alla fine ho deciso di aprire quel pacco e di dare a chi voleva quei profumi ovviamente in via privata lui però l'avevo tenuto da parte l'avevo tenuto da parte perché so che tanti di voi l'avrebbero preso volentieri l'honey wood è l'ultimo dei montal che do via ma un giorno vi farò un video e vi farò vedere tutto quello che mi sono tenuta e vi posso già dire che ho tenuto un montal solo lui è praticamente pieno è pieno io non ho una bilancia da grammi vi dovete fidare di me perché le boccette non ci potete vedere dentro ma è pieno è pieno e oltretutto queste qua colorate sapete benissimo che sono quelli più costosi sapete che sono onesta sapete e io ci metto la faccia ecco più di questo lui è un nude mielato un profumo unisex adattissimo all'uomo adattissimo alla donna che ama queste profumazioni forti cioè queste profumazioni che durano tanto che si sentono tanto lasciate la scia si sentono questo profumo qua dura giorni addosso anche se vi lavate io io l'ho dato poche volte poche volte perché è pieno ma le volte che l'ho dato è stato bestiale ma buonissimo buonissimo quello che però vi dico è che mi potete contattare su instagram o messenger non mi funziona bene la posta non mi funziona il la pagina di facebook quella dei profumi dove ci pubblico le foto e i miei video non mi fanno vedere i messaggi e la posta ultimamente non mi funziona dal telefono quindi fate prima a cercarmi su messenger e instagram honeywood è disponibile l'altro è questo qua anche lui mi era stato fermato nello stesso pacco acqua di parma blu mediterraneo mandorlo di sicilia questa invece è una profumazione molto delicata vanigliata una vaniglia splendida una vaniglia una profumazione che rimane quasi intima perché non ha lasciato una scia paurosa non dura 12 ore come il montal è una profumazione discretissima vi faccio vedere quanto ne rimane cioè questo ne ho usato un po di più ma ce n'è tantissimo tanto più che un 75 ml io preferirei che voi conosceste le fragranze di cui vi parlo perché io capisco voi mi contattate mi dite ma mi interesserebbe quello me lo spieghi mi me lo descrivi a parte che io ho già fatto dei video su questi profumi e ci sono tante ragazze tanti ragazzi che hanno fatto video su questi profumi sappiamo benissimo che il naso di ognuno di noi è diverso le emozioni che ci danno i profumi sono diversi da individuo a individuo quindi io sarei tanto felice che voi conosceste già queste fragranze poi ho questi due questi due sono ambra liquida e eterniti eccoli qua questi qua io so benissimo che erbolario ha fatto una promozione su ambra liquida e quindi ne prendo atto eterniti è un 100 ml ma vi faccio vedere perché sapete che a me non piace dare via i profumi così usati questo fa parte del mio passato e come passato mi piacerebbe darlo via e invece ambra liquida è così non so se riuscite a vedere in controluce arriva qui questo praticamente nuovo allora il discorso è questo eterniti e ambra liquida io preferirei associarli alla alla vendita degli altri due nel senso che o eterniti è questo o eterniti è questo o ambra liquida insomma perché comunque questi io li faccio passare meno di una spedizione come una spedizione capite non venitemi a chiedere voglio solo questo perché capite bene che io sì sono contenta li voglio dar via perché ok però non posso neanche devo almeno insomma sono sicura che avete capito il ragionamento e quindi mi piacerebbe associarli a quelli per riuscire a insomma sono davvero contenta del risultato che ho ottenuto perché volevo davvero arrivare ad avere questi profumi che sono già tanti perché davanti a me sopra la scrivania ho queste 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 mensole sono tre mensole da un metro ciascuno e ho solo la mensola più bassa coi profumi ve li conto due quattro sei otto dieci dodici quattordici profumi mi bastano quelli sono anche tanti sono solo io a darli quindi io una notte proprio una notte mi sono svegliata e mi son detta ma cavolicchio di bruxelles io ho un armadio pieno di profumi e mi occupa lo spazio per mettere meglio la mia roba non va bene le mensole sono piene di profumi e non li metto non li metto li guardo e sta lì li apprezzo sì ma non li mangio non li bevo e non li mangio non so se capite cosa voglio dire non è più la mia priorità amo i profumi li amo fortemente e anche questi che ho deciso di dar via li amo tutti però ho preso questa scelta proprio perché non voglio vederli deteriorare senza essere usati da me e quindi do la possibilità di essere usati da qualcun altro che li apprezza che li apprezzo anch'io ovviamente ma almeno li usate e li potete avere a un costo decisamente onesto perché comunque non pagate il prezzo nuovo del prodotto ecco e avete della roba sono davvero contenta vi ripeto del risultato che ho ottenuto delle persone con cui ho potuto fare questo questo scambio io l'unica cosa che vi chiedo di sapere che cosa state prendendo se volete se siete interessati che sappiate usare paypal perché su paypal bisogna registrarsi e la registrazione con la registrazione poi vi permette di fare il pagamento e mi dispiace molto che alcune tre persone con tutte quelle che ho conosciuto che non ho avuto problemi anzi sono contenta dei complimenti che ho ricevuto perché vi ho coccolato in questi pacchi e sono felice che voi abbiate apprezzato però ci sono tre persone che veramente si sono comportate male e una è una persona che conosco da tempo e ci sono proprio rimasta male per l'azione che è stata fatta e poi quest'uomo che in principio mi aveva fatto un ordine poi mi ha fermato un sacco di prodotti per parecchio tempo già subito appena era uscito il video senza darmi risposta senza dirmi no guarda non li voglio più l'altra che voleva che io spedissi e gli facessi la foto della tracciabilità del pacco e poi allora mi avrebbe pagata è stato anche un po' stressante in un certo senso però sono contenta di essere arrivata a questo punto bene contattatemi su messenger oppure su instagram se siete interessati io vi auguro una buona vita a tutti